Dal Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione arriva il bollettino settimanale sull'andamento dei contagi da Covid. Gli stessi, insieme alle ospedalizzazioni, risulterebbero in calo nella settimana che va dal 1 al 7 agosto. Un dato in linea con la tendenza nazionale. I nuovi positivi sono 20.259, con una diminuzione del 29% rispetto alla settimana precedente e un'incidenza pari a 422 positivi su 100.000 abitanti. Le province con il tasso maggiore di nuovi positivi sono Messina, Grigento e Siracusa. Le fasce di età maggiormente a rischio sono le over 60, e cioè tra i 70 e i 79 anni, con 536 casi su 100.000 abitanti, tra i 60 e i 69 anni 512 su 100.000 abitanti e tra gli 80 e 89 anni 481 casi positivi su 100.000 abitanti. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni sarebbero, secondo il bollettino, in lieve diminuzione. più della metà dei pazienti in ospedale risulterebbe senza vaccino. A proposito di vaccini, i più giovani, cioè dai 5 agli 11 anni, con almeno una dose, rappresentano il 26,68% del target regionale, mentre con il ciclo primario completato il 22,95, pari a 70.734. I ragazzi invece, over 12, con almeno una dose, raggiungono il 90,68%, con il ciclo primario si attestano all'89,37%. Hanno ricevuto invece la dose aggiuntiva booster 2.757.570 persone, pari a 72,27% degli aventi diritto. Resterebbero infatti 1.058.279 cittadini, che pur avendone diritto, non l'hanno ancora effettuata. Dal 1 marzo, dato in cui è iniziata la somministrazione della dose di richiamo booster per i soggetti over 12, con marcata compromissione della risposta immunitaria, e che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi da almeno 120 giorni, sono state effettuate 92.674 somministrazioni di quarte dosi ai residenti in Sicilia, di cui 44.203 a soggetti over 80 e 2.459 sono state le somministrazioni del vaccino Nuvaxovid-Novavax, disponibile nei centri vaccinali dal 28 febbraio. Dal 3 a 9 agosto, invece, sono state somministrate 6.596 quarte dosi tra residenti e non residenti, con una diminuzione del 33% rispetto alla settimana precedente.